segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te sai qual è il problema sai qual è il problema vero è che oggi dei lettori dei cittadini ci hanno segnalato che nelle ultime ore proprio in vista dello sciopero la benzina è aumentata ulteriormente allora io non credo che oggi il mercato internazionale giustificano un aumento della benzina nelle tre o quattro ore precedenti lo sciopero quindi qualcosa di vero c'è nel fatto che qualcuno sta facendo il furbo oppure che il mercato di nuovo colpevoli no più che altro il mercato reagisce agli stimoli della politica se la politica sbaglia lo stimolo il prezzo cresce piuttosto